... per Caromo Pettusella, numero 66. ... per la partenza di regolare questa volta per le formazioni di gara, le ricordiamo rapidamente, le regolate in formazione 1, le regolate in formazione 2, i mobili di Gantù, Caromo Pettusella, in l'anima 370. Si va il cambio, in questo momento siete appassiti i compagni di squadra, in questo momento, siete abbracciate, adesso andiamo a condurre le proprie notizie, studiamento, che questo è ripristare, il titolo di Gantù, e l'anima 370, il titolo di Gantù, che si diventa il catastro, non la potrà vaccinare, ma la natura di Gantù, che si diventa il nostro paese, il tetto e l'amiglio. ... che chiude, nera di duosamente.